Ecco, come si sente oggi? Libero di un peso, ma non riesco a dire di essere soddisfatto. Primo perché per carattere non voglio cavalcare questa vicenda, voglio essere valutato per la mia storia personale come politico, come ministro, come parlamentare e non su questa vicenda. Mi sento libero di questo peso, amareggiato perché se non ci fosse stata questa roba, forse la mia storia personale e non solo sarebbe stata diversa.